A posto alcuni problemi, esempio, gli estracomunitari che venivano a vivere qui a Torino dovevano chiamare un geometra che certificasse l'agibilità della casa. Ricordo i nostri radioscoltatori che se una casa non è agibile per il proprietario di casa c'è il penale. E poi alla fine si tratta solo di fare un obolo verso i geometri. Ecco, anche queste cose. Vediamo sui giornali che si parla di retate nei confronti delle donne di colore, delle nigeriane, di solito si usa questo termine, lungo le strade. Io non ho mai sentito parlare di retate dentro i nai. E questo è incredibile. Come dire, chi ha soldi sta tranquillo, chi non ha soldi può temere. Questa legge è barbara anche perché, parlando con gente che comunque aveva una certa disponibilità di denaro, qui non si parla di prostituzione, qui si parla di amore, e amava una donna che non fosse comunitaria, avendo i soldi la poteva far passare come colfe. Dopo un po' si sposavano e lei aveva la cittadinanza italiana. Cittadinanza italiana, ricordo che c'è gente che è sposata con un italiano, ha avuto dei figli in Italia e la cittadinanza italiana l'ha aspettata oltre i due anni. Ben oltre i due anni. Invece chi ama una persona, uomo o donna che sia, che non sia comunitario, ha grossissimi problemi di stare con questa persona. Perché per farla venire deve avere il conto in banca di un certo tipo, deve avere tutta una serie di richieste. dove insomma è più facile essere clandestini che essere illegali. Ma pensare a una normativa più civile che regoli queste cose, dato che la gente che si sposta è gente che ha fame o che comunque è in situazioni di guerra. E noi italiani lo dovremmo sapere per primi. abbiamo emigrato per anni, abbiamo esportato anche la mafia. Non si può dire che adesso chi viene sono solo delinquenti, perché se no la famiglia Gotti negli Stati Uniti cosa bisogna dire? Bisogna dire che alcune forze politiche hanno proprio fatto la loro fortuna mettendo insieme e quindi anche appunto alzando il livello della tensione e associando appunto la presenza di persone migranti a quello che poteva essere appunto il problema della sicurezza o addirittura appunto innescando quella che è la guerra fra poveri sull'assegnazione di case popolari piuttosto che le liste dei bambini negli asili nido. Noi ricordiamo che per esempio in Italia abbiamo ancora questo grossissimo problema dei bimbi nati qui e che però non possono avere la cittadinanza italiana se non al compimento del diciottesimo anno d'età. Sappiamo appunto che questa questione è una questione che i politici dicono che debbono tutti affrontare e che insomma io spero che col nuovo Parlamento si affronti veramente. D'accordo, allora abbiamo chiuso qui la nostra intervista, ricordo ai nostri radioascoltatori che la prossima settimana ci sarà la consigliera regionale Eleonora Artesio di Fondazione Comunista e che il 27 novembre ci sarà un esponente dell'Udc. Quindi noi continuiamo nella nostra carellata portando ai vostri microfoni tutti i partiti e questo fino all'11 dicembre. Il 18 dicembre chiuderemo con un dibattito qui in radio fra esponenti di diverse forze politiche. Quindi così facendo diamo a voi la possibilità di ascoltare le opinioni e le posizioni di tutti. decidere se votare o non votare e se votate per chi votare. Noi cerchiamo di esservi vicini e di darvi una mano. Vi ringraziamo, vi salutiamo, a martedì prossimo. Salve. Se prima eravamo in uno a mostrare la medaglia Adesso siamo in due a cantare Viva l'Italia Se prima eravamo in due a mostrare la medaglia Adesso siamo in tre a cantare Viva l'Italia L'Italia, l'Italia Che bella l'Italia Australia o Somalia Nessuno la guaglia L'Italia, l'Italia Chi ruba e chi inroglia E questo è il paese Di chi non ha voglia L'Italia, l'Italia Ma che meraviglia C'era chi se la piglia Ma chi se non piglia L'Italia, l'Italia Vogliamo l'Italia Dalle sopracciglia Fin dalle cabiglia Poeti santi Rapinatori L'Italia che vince I mondiali rigori La mafia, la pizza Il mandolino Esplode il falcone E poi Borsellino La giovine Italia Nel 150 Che bella che eri Negli anni 60 E poi Negli anni 60 E poi Che galore Italia, Italia Su ogni tovaglia Branzino alla griglia E una bella bottiglia Italia, Italia La coda di paglia Il cane sbadiglia E l'asino raglia Italia, l'Italia Se uno la taglia Ci toglie le miglia E rimane la Puglia Italia, Italia Che bella famiglia Ci toglie la moglia E rimane la figlia Italia che spara A vista i gommoni Italia che vuole Nuove elezioni La mafia, la pizza Vedi il mandolino Esplode il falcone E poi Borsellino L'Italia galleggia Sulla cua santa Che bella che eri Negli anni 60 Ci toglie le miglia E' qui che è cominciata La storia di uno stato Spesso maltrattato Ma come io di amato Nessuno amato mai 17 marzo 1860 Vittoria normale Nel totodoi Nel rete Garibaldi De Tocchino Hanno dichiarato Che si prima erano Il 999 A mostrare la medaglia Adesso sono i mille A cantare Viva l'Italia Sentiamo adesso Una dichiarazione Del nostro sovrano Allora Basta prendermi in giro Per la mia statura Abbiamo sentito Il nostro sovrano Dichiarare Basta prendermi in giro Per la sua Voce Stratuttatura Ha detto voce Questa è corretta Dettuttatura No L'elettatura Ci mancherebbe altro Mi permetterebbe di dire No Lai Oltre sono lei Che cazzo succede qui Che bella che eri negli anni sessanta Che bella che eri negli anni sessanta Licenziate questo giornalista Prendo il primo che capita Tu Vieni qua Leggi 6 maggio 1860 Notizia di politica interna Vittorio Manuela Detto Totò Giussate Garibaldi Detto Pepino Hanno dichiarato che Prima Sei Innavamo 990 90 E A mostrare la medaglia Adesso siamo in Mila A cantare Viva l'Italia Pro Vigo In Gambia In Gambia